Arrivano alla Cinecittà delle immagini abbastanza assurde di un elefante e una giraffa che corrono per le vie degli studios inseguite da una troupe cinematografica probabilmente. Abbiamo avuto conferma che effettivamente questi animali sono impiegati per le riprese di un film e assistiti da veterinari e personale specializzato, ma allo stesso tempo ci chiediamo se c'è davvero bisogno nel 2023 di impiegare animali esotici di questo tipo con queste caratteristiche biologiche ed etologiche per le riprese di un film a Roma quando ormai la tecnologia ci permette, ci assicura delle alternative altrettanto veritiere e molto più valide dal punto di vista sicuramente etico.